Quando è stato il momento della premiazione ero molto emozionato, molto ansioso ma anche molto contento non solo di aver vinto ovviamente il premio ma anche dell'opportunità che il premio IAI sentivo mi stava dando in quel momento perché in realtà il premio IAI è una grande opportunità per partecipare al dibattito politico del paese, mi ha permesso di entrare in contatto con la realtà di un think tank cosa che non avevo mai fatto e per sperimentare quella che è appunto l'attività che un think tank porta avanti e la sua collaborazione anche con le istituzioni, quindi è come vedere da dentro il processo politico e decisionale delle istituzioni Se dovessi descrivere con un aggettivo il premio IAI e l'esperienza che ne è seguita questo aggettivo sarebbe senz'altro appagante ma soprattutto entusiasmante I ragazzi che si approcceranno, spero lo facciano in molti al premio IAI 2020 vorrei consigliare senz'altro di esprimere liberamente il proprio pensiero e di farsi un'idea quanto più completa di quello che è il tema ma anche di quello che sono le necessità e le urgenze del nostro paese